Beh, per dire un'oscenità, per me non c'è differenza tra uno strumento colto, diciamo così, uno strumento raccolto, uno strumento effimero. Gli strumenti sono oggetti, sono oggetti sonori, poi lo strumento sei tu, sei quello che ne vuoi fare, di un suono o di un rumore. Sì, la danza e la musica vanno insieme da sempre, in questo caso c'è anche uno scambio di ruoli, nel senso che il danzatore diventa musicista e il musicista diventa danzatore. Lo spettacolo si chiama Lo sbernecchio del bubù ed nasce con l'idea di indirizzarlo ai bambini, ma poi abbiamo scoperto che in realtà si estende anche al bambino che è in ognuno di noi. La storia di questo spettacolo è, intanto c'è in scena un bubù, il bubù è uno strumento effimero che Pino Basile suona, è uno dei pochissimi musicisti al mondo che suona appunto degli strumenti che non sono considerati tali. La storia dello spettacolo è lontanamente ispirata a un romanzo di Mark Twain ed è una storia di uno scambio di ruoli, quando un bambino povero si mette nei panni di un bambino ricco e viceversa per poi scoprire che in fondo stare nei propri panni non è male, tutto questo imparando qualcosa da questa esperienza di scambio. Grazie a tutti!